E bello a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, io sono il vostro MrBistecca Ed oggi signori miei ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatore con l'Inter Allora, abbiamo subito la partita con il Crotone, poi Milan e Fiorentina Non un episodio facile, comunque intanto speriamo di iniziare subito con una vittoria Perciò andiamo innanzitutto a sistemare le magliette Tutto pronto, possiamo andare alla partita Ed eccoci qua dunque da Crotone, dallo stadio... Ragazzi non mi ricordo il nome, fatelo sapere voi con un commento Comunque siamo qua per la partita di Serie A tra Crotone ed Inter Dobbiamo assolutamente vincere per riacciuffare la Juventus Una montagna da scalare, Crotone peggiore attacco in Serie A con solo 24 reti segnate La nostra squadra miglior difesa con solo 23 reti subite Quindi appunto una montagna da scalare per il Crotone E dunque tutto pronto e andiamo a prendere i tre punti Banega salta il difensore, il tiro! E poi Eder! 1-0 Inter, gol di Eder Cittadin Martins, era stato bravo Comunque anche Banega, aveva saltato tutti Buono il tiro, parata del pochiere E poi Eder si avventa sul pallone e lo insacca in porta per l'1-0 Gabriel contro la palla Gabriel... Epp, palla fuori Crisettig, l'ex Inter, salta a tutti Il palo clamoroso Candreva controlla Salta il difensore La parata Eeeh, oh, ma che è? Calcio di rigore, giusto ragazzi Calcio di rigore Fallo di... Non so chi è E girati Ragazzi non ce lo fanno vedere Niente da fare, non ci fanno vedere chi è il difensore Che comunque ha fatto fallo Fatto sta Che è calcio di rigore Quindi il nostro esperto Antonio Candreva dal dischetto Segna il gol del 2-0 Per la nostra Inter Bravissimo Antonio Come al solito A realizzare Il calcio di rigore Penso sia tipo il settimo-ottavo in stagione Che fa, quindi E finisce qua il primo tempo 2-0 per la nostra Inter Sul crosszone Partita molto ben interpretata Dalla nostra squadra Se ne va Gabigol Gabigol Parata di Frey Parte il cross Ci va Eder Parata ancora Palla per Martella Martella Dalla distanza Palla che esce di poco Se ne va Gabigol Salta Clayton Gabigol Tu per tu col portiere Parata In area Lazaro Appoggio a Candreva Murato Ancora a Candreva Palla che esce di poco Finisce qua La partita Vittoria 2-0 Della nostra Inter Sul crotone Quindi tre punti Molto importanti Portati Allora ragazzi Andiamo avanti Prossima partita Che sarà Il derby Di Milano Ovvero Inter Milan Perciò Partita molto importante Da vincere Assolutamente E quindi Andiamo subito Alla partita Sistemiamo Le Magliette Tutto pronto Possiamo Andare Alla partita Ed eccoci qua Dunque da San Siro Per l'incontro Di Serie A Tra Inter E Milan Derby Di Milano Stavolta Con appunto L'Inter In casa Se vogliamo Proprio Dirla Così Dirla tutta In quadrati I giocatori del Milan Con Bacca Onda Quello che era Vangioni Boh Non lo so Il nostro Joao Mario Adesso E dunque Tutto pronto E andiamo A prendere I tre punti Perisic Appoggio Rashford Rashford Lo spazio E l'1 A 0 Inter Al quinto minuto Di gioco Subito Marcus Rashford Porta In vantaggio I suoi Bravissimo Il nostro attaccante Inglese A trovare Il giusto Spazio Bravo anche Perisic Comunque A servire Un ottimo pallone E dunque C'è appunto Il vantaggio Per l'Inter Se ne va Perisic Se ne va Perisic Ha tu per tu Col portiere Il doppio palo Onda Onda Rientra Sul sinistro Parandano Lancio Lancio Ottimo Per Di Bala La mette A giù Fa partire Il sinistro Un po' troppo alto Rashford Tiene palla Non la perdi E allora Stefano Casadei Centrale Finisce qua Il primo tempo Vantaggio Inter Sul Milan 1 a 0 Continiamo così Anche nel secondo tempo Perisic Salta difensore Perisic La traversa Parte il cross Attenzione Palla fuori Vangioni controlla Leonel Vangioni Ma che cazzo Ragazzi Pareggio Milan All'ottantesimo minuto Ma che cosa Ha combinato Leonel Vangioni Veramente un gran tiro Eh si Nel 7 Imparabile Per Andana Vice purtroppo Pareggio Del Milan Gabriel In aria Gabigol Appoggio Per Di Bala Troppo centrale Controllo Gabriel Si gira Lo spazio Per il destro Dai che l'azione è buona Dai che l'azione è buona Stendera La controlla La filtra Per Di Bala Al 93esimo minuto C'è Il gol Di Paolo Di Bala 2 Inter 1 Milan Vantaggio dunque Per la nostra squadra Che all'ultimo secondo Si porta In vantaggio Nel derby E sono quindi Tre punti fondamentali Finisce qua La partita Come vi ho già detto ragazzi Tre punti fondamentali Quelli Ottenuti Oggi Nel derby Con il Milan Buona prestazione Da parte dei nostri Andiamo avanti Prossima partita Che ci vedrà Sfidare Come vi ho già detto La Fiorentina Non sarà Per niente Facile Però ragazzi Devo dire una cosa Nella partita con il Milan Ho ritrovato Due giocatori Molto importanti Ovvero Gabigol Che finalmente Forse sta riuscendo A fare qualcosa E ragazzi Perisic E' vero che ha preso Con due tiri Tre legni Però Comunque Ha giocato una partita Bellissima Ma intanto Sistemiamo le maglie Tutto pronto Possiamo Andare Alla Partita Ed eccoci qua Dunque Dallo stadio Artemio Franchi Di Firenze Per la partita Di Serie A Tra Fiorentina Ed Inter Fiorentina Che è stata Anche la nostra Prima squadra Su FIFA 15 Comunque Cosa abbiamo Tabellone di Serie A Noi siamo al secondo posto 69 punti Fiorentina è al settimo A 49 Non una grandissima stagione Per i Viola Che purtroppo Non riusciranno Ad andare In Europa League Per questa stagione Guardato Borca Valero Uno dei giocatori più forti Della squadra Fiorentina E dunque Tutto Pronto E Andiamo Palla buona Per Di Bala Che salta benissimo Gonzalo Diggers Il tiro Palla Deviata Parte il cross Ci va Miranda Poi al Tatarugiano Attenzione A Calinic Il controllo Teglio Traversa Finisce qua Il primo tempo Bella partita Per il momento Molto combattuta Da entrambe le parti Forse Un po' meglio per noi Palla per Di Bala Che poi la perde Carambola Su Joe Mario Non va Di Bala Salta il difensore Sempre Polo Di Bala Appoggia per Hector Bellerin Un po' di bordello Babacar Sempre lui Kumal Babacar Andanovic Col piedone Se ne va Perisic Contro De Maio Non gli sta dietro Il tiro Com'è uscita Palla per Stender C'è il taglio Per Candreva Tatarugiano Vai lì In aria Vai lì Il tiro E c'è Gabigol Finalmente Torna il gol Gabigol Dopo non so Quanto tempo Ragazzi E al novantesimo Poi un gol Decisivo Che ci porta I tre punti Anche contro La Fiorentina Oh Episodio questo Incredibile In cui Veramente ragazzi Abbiamo sbancato tutto Nove punti Su nove Conquistati E finisce qua La partita Vittoria Uno A zero Di misura dunque Dalla nostra Inter Sulla Fiorentina Ma sono tre punti Molto Molto Importanti Allora signori Il video Può Finire qua Tabelloni Alla mano In campionato Siamo in seconda posizione A pari punti Con la Juve A pari punti Con la Juve A cinque giornate Dalla fine Dai Ce la possiamo fare Non sarà semplice Arrivare in prima posizione Però C'è La possibilità Ragazzi C'è la possibilità Di riuscire Ad arrivare Primi Siamo a pari punti Non so perché Ci mettono secondi Non mi ricordo Gli sconti diretti Sicuramente È per quello Oppure per la differenza Detti Comunque Dai C'è una speranza E dunque Prossime partite Che ci vanno a sfidare Napoli Genoa E Sassuolo Ecco la speranza Va già a morire No non è vero Però ragazzi Non sono affatto Tre partite semplici Sono tre partite Molto difficili Quindi non dovremo Perdere la concentrazione E dunque Signori appunto Il video Può finire qua Vi chiedo Al primo video Di iscrivervi al canale Di condividere il video Con tutti i vostri amici Lasciate ragazzi Anche un bel commento E direi Che ci possiamo Vedere domani Con un nuovo video Buona Grazie a tutti